Il personaggio del momento è senz'altro Rocco Siffredi, ospitato in tv, premi da amministrazioni comunali, valorizzato persino dal ministro Roccella e ora proposto anche come modello positivo per i ragazzi in un programma pomeridiano della RAI, di cui parliamo oggi sulla bussola. Ma il vero obiettivo di questa che è una vera e propria campagna non è la persona di Siffredi, è invece la promozione della pornografia, la sua normalizzazione, lo stesso giochino che si fa con la droga, si divide quella leggera da quella pesante, si punta alla legalizzazione della prima così intanto la gente familiarizza con la droga. Per il porno è lo stesso, si condanna quello gratis, troppo facilmente disponibile per i minorenni e si promuove quello a pagamento, quello che fa appunto Siffredi e tra un po' vedremo il porno divo anche a scuola a fare lezione di educazione sessuale. È una operazione vergognosa, le associazioni educative e familiari dovrebbero insorgere. Grazie